Il Paradiso, puntate 26 e 27 1 Adelaide vivono un momento di intimità. Lo sceneggiato Il Paradiso delle Signore, giunto alla sua settima stagione, va in onda su Raiun anche il 26 e il 27 gennaio 2023. Nei nuovi episodi ci sarà in particolare a un ulteriore riavvicinamento tra Adelaide di Sant'Erasmo, Vanessa Gravina, e Marcello Barbieri, Pietro Mosotti, che daranno sfogo e i propri sentimenti vivendo un momento passionale. Nella puntata che andrà in onda su Raiuno giovedì 26 gennaio, Gemma, Gaia Bavaro, verrà invitata al circolo da Carlos. Proprio quando si svolgerà la festa di fidanzamento di Ludovica, Giulia Arena, con Ferdinando, Fabio Fulco, e di Flora, Lucrezia Massari, con Umberto, Roberto Farnesi. Intanto Maria, Chiara Russo, consiglierà a Irene, Francesca del Fa, di scusarsi con Clara, Elvira Camarrone, per essersi intromessa sulla questione del ciclismo. Nel contempo Vito, Elia Tedesco, troverà il coraggio di svelare il suo segreto ad Alfredo, Gabriele Anagni. Alla porta di Palma, Valentina Tomada, busserà a sorpresa l'anziana nonna di Elvira, che le chiederà di scrivere per lei una lettera. Intanto Marcello proverà a risollevare l'umore di Adelaide quando la vedrà disperata, proponendole di viaggiare con lui. Intanto Umberto sarà contentissimo per essere diventato finalmente il proprietario del Palazzo Andreani, il commendatore Guarnieri sarà grato al suo alleato Tancredi, Flavio Parenti, per averlo aiutato a raggiungere il suo obiettivo. Intanto quest'ultimo dirà a Umberto di voler concludere al più presto possibile il piano per separare una volta per tutte sue mogli Matilde, Chiara Baschetti, e Vittorio, Alessandro Tersigni. Nella puntata del Paradiso delle Signore di venerdì 27 gennaio, Vittorio per smettere di soffrire cercherà di allontanare Matilde. Tancredi intanto potrà essere più che soddisfatto, quando riuscirà a riconquistare la fiducia della moglie. Intanto Marcello e Adelaide architetteranno un piano per partecipare alla festa di fidanzamento di Flora con Umberto e di Ludovica con Torre Bruna. A rovinare la serata che Gemma trascorrerà al circolo con Carlo sarà il suo ex fidanzato Marco, Moise Curia, che si presenterà senza alcun preavviso. Finalmente Vito si deciderà a parlare del proprio passato a Maria. Infine concludere la contessa di Sant'Erasmo e Barbieri si lasceranno andare alla passione, dopo aver fatto ingelosire Umberto e Ludovica. Anissa Pag. 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 Grazie a tutti.